A Bologna, Birex è uno degli otto centri di competenza nazionali istituiti dal Ministero dello Sviluppo Economico con l'obiettivo di supportare le aziende al processo di digitalizzazione. Nella conferenza stampa tenutasi il 23 marzo in sede, si è parlato soprattutto di piccole e medie imprese e di industria 4.0. Ma cosa vuol dire di preciso? Ce ne parla il presidente del comitato esecutivo di Birex, Domenico Bambi. Le industrie hanno bisogno di efficientare i propri processi produttivi, di creare un sistema paese. Noi come mediterranei viviamo un peccato originale, cioè pensiamo che il singolo da solo possa vivere bene senza la necessità di farsi aiutare dal prossimo, da quello che ti è vicino, cosa che invece gli anglosassoni non hanno. Noi mediterranei bisogna che incominciamo ad imparare da loro questa caratteristica. Birex è specializzata sul tema Big Data. E allora ecco che entra in gioco la linea pilota, impianto di fabbrica digitale in cui le novità tecnologiche vengono testate prima dell'investimento. O meglio, test before invest. Testo le tecnologie, le provo, capisco perché e come potrebbero servirmi nella mia attività e nel mio business e poi le replico. Il grande vantaggio di una Smart Factory così fatta è che si toglie l'effetto demo. Qui, se funziona qui una POC o un caso d'uso, funziona esattamente anche nel planto industriale. Negli ultimi tre anni sono stati cofinanziati 35 progetti per 88 aziende e si prevede che oltre 16 milioni di euro possano essere destinati a Birex anche grazie al decreto PNRR per avvicinare sempre di più le piccole e medie imprese all'innovazione e alla sostenibilità.